E poi abbiamo un'altra sessione, quella che riguarda il bilancio. Ringrazio il Ministro Pado, anche viene oggi qui da noi a darci un contributo, il punto di vista del Governo italiano su questo, ma non solo il punto di vista del Governo italiano, il punto di vista, io penso, di un pezzo dell'Europa che vede le cose in maniera diversa. Dicevo prima che noi non dobbiamo lasciare debiti ai nostri figli, io penso che questo sia molto giusto, il nostro Paese è un Paese molto indebitato, è un Paese che ha anche molte risorse, ma è un Paese molto indebitato. E noi sempre ci poniamo questo tema, lo poniamo sempre nelle nostre riflessioni, come facciamo a diminuire il nostro debito. E questo vale per noi e vale un po' per tutti. Ma non possiamo pensare che non diamo un lavoro ai nostri figli. E noi dobbiamo dare un lavoro ai nostri figli, dobbiamo utilizzare politiche che facciano e creino lo sviluppo. Perché il tema di oggi è quello, Sergei lo diceva, la disoccupazione giovanile, è il tema dell'ingresso nel mondo del lavoro, è il tema della risposta nelle politiche che questo Paese, che questo continente vuole dare alle nuove generazioni. E la prima risposta è quella di dare garanzie per un lavoro, per poter mettere famiglia, per poter costruirsi una prospettiva ed un futuro. E quindi la flessibilità non è una idea con cui ci si caratterizza un Paese sì e un Paese no. Deve essere la risposta, intanto il rispetto di un impegno che il PSE ha raggiunto quando si è costruito gli equilibri di commissione, ma poi deve essere una risposta oggettiva a un tema grande, che è quello di creare occupazione e di rilanciare gli investimenti in questo continente. Grazie.